ragazzi oggi vi farò un piccolo tutorial dove vi farò vedere come fare una piccola animazione semplicissima allora a mano libera oppure se volete con il righello a forma di cerchio allora fate un tondino qui ok poi gamba con qui la mano che spunta fuori ecco poi qui fate l'altra gamba un po troppo lunga questa fate l'altra gamba dopo aver fatto la gambe fate una testa abbastanza grande ok io la faccio di questa misura dai troppo grande così ha fatto il cerchio e dopo aver fatto la testa qui fate l'altra mano che va qui poi fateli dei capelli ok e dopo quindi fatto una faccia come volete ecco poi qui dovete fare un sedere poi fate la stessa cosa però col sedere un po più in alto un po vabbè fate la testa i capelli la faccia e infine il sedere lo fate più o meno così ok le mani perfetto e poi ripetete questo lavoro prendete prima questo cliccate qui su queste due su questi due e faccio ma come ve lo posso mostrare allora questo qui questo con due cartelle tipo cliccate andata all'ultima e cliccate questa qui questa cartella con la freccia poi prendete il secondo e fate lo stesso lavoro per i fotogrammi al secondo vi consiglio di mettere sui 4 fino ai se lo volete fare un po più lungo agli 11 io però consiglio un 6 questo è il risultato finale questo dura all'infinito poi se volete non potete fare alcune modifiche tipo qui potete mettere un altro tizio che ne so così poi qui potete fare un altro così prendendo questo strumento questo qui che c'è in alto che c'è in alto ritagliate poi cliccate dove sta in alto a destra non questa freccetta ma questo qui poi fate così su questa cartella l'ho andata a mettere qui lo girate tac e fate la stessa cosa e questo sarà il vostro secondo risultato finale vi uscirà un lavoro abbastanza primario però carino l'ho andata Grazie.